Adesso Stefano resta con noi perché è arrivato il momento di ascoltare il duo Empatia che anche oggi ci offrirà una lettura molto particolare di un altro classico dedicato proprio al tema dell'emigrazione. Questa volta andiamo indietro nel tempo e andiamo, pensate, fino al 1937 in Toscana. Andiamo a Firenze per riscoprire uno dei capolavori portati al successo dal grande Odoardo Spadaro. La porti un bacione a Firenze. Noi ci vediamo domani e io vi lascio insieme all'Empatia Jets Duo. Grazie. Scusi signore, perdoni lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto questa sera ed un favore piccolo le chiedo. La porti un bacione a Firenze. Che lei è la mia città, è il cuore mio se vuoi. La porti un bacione a Firenze. Lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia di emigrante, per questo son distante. Lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze. Se la rivedo glielo renderò. E quel signore mi ha risposto allora. Il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità sin da quest'ora. In viaggio chiudo a casa porterò. Ma appena è giunto a casa ve lo giuro. Il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze. Che lei è la mia città ed anche lei di me. Io porto il tuo bacio a Firenze. Non vedo l'ora quando tornerai. Sei figlia di emigrante, per questo sei distante. Ma stai sicura un giorno a casa tornerai. La porti un bacione a Firenze. E da Firenze tanti baci avrai. Ma porti un bacione a Firenze. E da Firenze tanti baci avrai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.